Una zanzara, qua era tutta una palude, prima del nostro duce, ma le zanzare sono rimaste. Mettete il fornellino, soprattutto per la bambina. Eh? 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 Ah, questo è buono, questo fa un sacco di cose buone, un sacco di ricette, è vero. Io lo volevo regalare a mia madre, ma costa 900 euro, uno schiaffa la miseria. Altri preziosi? No. Arrivederci. Che c'è? E' scattato il contatore. In una situazione di agio, l'essere umano tende a mettere le mani in tasca. L'ho letto sorride, le parto per psicologia. Le mani in tasca indicano noncialanza. Ma io qua ne vedo poche di noncialanza. Ancuno, anicuno, a ragazzi. Quello che cercate l'avete già trovato. Sorella cara, il mio ultimo pensiero sarà per voi.